Avviare un percorso di rinnovamento che, a Salerno ma non solo, consenta al principale partito di centrodestra di riprendere la rotta, puntando su energie nuove e su una classe dirigente desiderosa di emergere per rilanciare la coalizione. Gaetano Amatruda lancia la sfida di Forza Italia. In fase nuova, una stagione nuova per Forza Italia in provincia di Salerno, nella città di Salerno, in linea con quello che è un trend nazionale che ha immaginato il presidente Berlusconi e che è accompagnato qui a livello locale dall'azione del senatore Fasano e di Mara Carfagna. contribuiranno a creare un nuovo progetto per Forza Italia in questa città che camminerà su due binari, sulla denuncia di un sistema Salerno che non finiremo mai di denunciare e che sarà accompagnato da una forte, incisiva, consistente capacità programmatica. L'alternativa c'è, la costruiremo questa volta per tempo con delle energie nuove. Restano ancora però alcune incomprensioni con alcuni settori del partito, in particolare Roscia che non ha avuto parole tenere nei confronti degli ultimi provvedimenti. Ci sono i professionisti del lamento, che sono quelli che hanno tenuto in chiodata Forza Italia percentuali molto bassi, non dobbiamo voltare pagina. Tutte le discussioni sono utili, si arrevengono e nascono per stimolare dibattito. Tutto quello che riguarda gli aspetti formali saranno rispettate, le rappresentanze alle associazioni, su questo non ci sono problemi. Saranno rispettate tutte le regole come sempre avviene, ma è necessario, è importante che si lavori tutti nella stessa direzione.